Una storia di sofferenza? Giulia la racconterebbe come una storia di gioia indicibile. Il suo sorriso ricorda quello di Chiara Luce Badano. Accomunate dalla stessa sorte in anni diversi, vivono entrambe la gioia della fede e un completo affidamento alla volontà di Dio. Per Giulia, Chiara Badano è un modello da seguire, una consolazione nei momenti bui. Avrebbe continuato a frequentare l'oratorio se non avesse dovuto affrontare negli ultimi due anni della sua vita, dai 12 ai 14, un sarcoma molto aggressivo di fronte a cui anche i medici hanno deposto le armi. Fino alla fine Giulia è una combattente. Spera nella guarigione senza mai chiederla esplicitamente a Dio, se non nell'ultimo periodo, quando ormai le cure non possono più funzionare, ma aggiungendo sempre un sia fatta la tua volontà. Le sue preghiere hanno sempre due direzioni, intercessione per gli altri, soprattutto per i bambini malati come lei, e il ringraziamento. Scegli di recitare il rosario tutte le sere, soprattutto per dire grazie. Ma grazie per cosa? Un giorno, in pellegrinaggio a Padova, entra disperata nella basilica di Sant'Antonio e nesce dopo un po' di tempo in silenzio con un sorriso grandissimo. Si sente sostenuta da una forte abbraccio da cui non si staccherà mai più. Quell'abbraccio proviene anche da tutte le persone che non hanno mancato di stare accanto e di sostenerla. Nei momenti in cui il tumore avanza, è lei a incoraggiare medici, infermieri, amici, familiari che si sentono spiazzati nel sentirle dire che comunque sarebbe andato tutto bene, sia che fosse guarita, sia che avesse incontrato il Signore. Questa fede incrollabile è certamente un dono, il segno di un tesoro trovato per il quale vale la pena lasciare tutto, ma che va costruito con la perseveranza. Avrebbe fatto la scrittrice. Il suo sogno di pubblicare un libro, in effetti, si è realizzato. La sua tenacia viene considerata come una missione, qualcosa da trasmettere a chi manca di fiducia. Fino alla fine cerca di sdrammatizzare la sua malattia, di sforzarsi di vivere una vita normale, ma agganciata a Dio. Muore nell'agosto del 2011, mentre il vescovo di Bergamo, la sua diocesi, racconta a centinaia di giovani la sua esperienza di fede, in una catechesi alla GMG di Madrid.